Mameli, canto di un giovane italiano, è uno spettacolo travolgente, impetuoso, che cattura subito la mente e rapisce il cuore. Un viaggio verso il futuro, attraverso i sogni e la breve vita del giovane autore di quel canto degli italiani, poi inno ed emblema della lotta per l'indipendenza e l'unità. Un viaggio con i codici e le fondamenta che portarono alla costruzione dell'unità d'Italia. Lorenzo Cognetti, per il gruppo Iobel, realizza così e porta in scena molto di più dei fatti storici accaduti. Ma come svela la sartina solitaria, in palcoscenico crea e sviluppa una trama e un ordito che i sei artisti sulle tavole dell'Apollo di Totone rappresentano appassionando gli spettatori. Trama e ordito, come dire, quello che si vede da lontano e quello che solo nel suo insieme svela un progetto più grande. Lo spettacolo regala 80 minuti intense e avvolgenti, senza strappe e forzature, prende per mano lo spettatore, lo cala nella storia. Ci si ritrova così in riunioni clandestine, come sulle barricate di Milano, fino alla difesa di Roma, punto di arrivo di patrioti di tutta Europa. Un cammino tra le radici dell'unità d'Italia, che spiega come non lasciare viaggiare da soli i cuori e stuzzica le menti di tutti quelli che credono che l'Italia, costruita con tanti sacrifici solo 150 anni fa, vada difesa ancora oggi, capita e rivalutata.